Chi appartiene a questo segno sente un innato desiderio di svago e di pace. Spesso usa il suo fascino per convincere gli altri a compiere una fatica invece sua. Questo è il segno in cui il sentimento predomina in mille diverse sfumature. Il segno della bilancia, un po' pigro e svogliato, ama i complimenti. Gli piacciono il lusso e le comodità. Ama circondarsi di oggetti costosi e di tutto ciò che è raffinato. La sua morale è spesso elastica. Infatti, al segno appartengono anche persone tendenzialmente portate a qualche vizio. La volontà è relativa. Spesso ama prendersi dei periodi di svago e riposo con o senza meriti. Cede facilmente alla pigrizia. In questo modo impedisce a se stesso di creare un'attività, un lavoro o di prendere iniziative di qualsivoglia genere. L'individuo è dotato di capacità analitiche, che ama mettere a disposizione degli altri, dando suggerimenti o consigli.